Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Oggi parleremo della tragica morte di Morgan Algeri, annegato nel lago di Como, e del video profetico sulla sua morte, le ricerche sulla causa della morte di Morgan Algeri e Tiziana Tozzo, annegati nel lago di Como, continuano. Un video profetico è apparso sul profilo sociale di Morgan, e gli investigatori stanno cercando di capire le circostanze della loro morte. I due sono stati trovati con l'auto di Morgan nel lago. Le indagini preliminari hanno escluso un suicidio. E la procura di Como sta indagando sulla loro morte come omicidio stradale. Attualmente sono in corso l'autopsia e l'ispezione dell'auto. Un telefono cellulare e un computer portatile trovati nell'auto saranno esaminati per cercare ulteriori dettagli. Un video e delle foto misteriose sono apparse sul profilo sociale di Morgan, e gli esperti ritengono che potrebbe fornire informazioni cruciali sulla sua morte. In passato, Morgan aveva dimostrato abilità nel liberarsi da situazioni pericolose, come esercitazioni per uscire da un mezzo sott'acqua ma questa volta la tragedia è stata inevitabile. Il mistero a questo punto si infittisce. Come sia possibile che una persona addestrata a superare determinati problemi di pericolo improvvisi? Non si è riuscita ad uscire da quella situazione, e voi che ne pensate di questa strana vicenda? Fatecelo sapere nei commenti.